Grazie dell'invito, dell'opportunità e dell'occasione perché comunque è un panel interessantissimo e devo dire la verità un po' ho dovuto studiare un po' tanto, perché appunto Bruno Barrell che è del vostro comitato tecnico scientifico di Remain dell'Immobiliare Arragato ha detto una cosa che voi avete riportato che è appunto questo, partendo da due articoli della Costituzione a me ha colpito principalmente il secondo, cioè l'articolo 41, perché Barrell ricorda che appunto c'è scritto che la Costituzione deve tutelare la sicurezza e il rispetto della libertà e della degnità di ogni persona e anche questo è la casa comune, il concetto di casa comune. Io sono andato a cercarmelo e ho ritrovato e mi ha colpito molto la tempistica perché nel 2015, l'hai ricordata te, l'enciclica Laudato Si che ha fatto Papa Francesco, nella quale proprio parlava della casa comune, cioè della cura della casa comune ci sono dei passaggi, ne leggo solo due perché secondo me sono molto significativi perché appunto poi uno immagina l'immobiliare, il consumo del suolo, lo sviluppo, la tecnologia ma in realtà siamo sempre noi come persone e centralità proprio delle anime anche e appunto l'enciclica diceva che il nostro stesso corpo, non dobbiamo mai dimenticarci che noi stessi siamo la Terra e che il nostro stesso corpo è costituito dagli elementi del pianeta la sua area è quella che ci dà respiro e la sua acqua è quella che ci vivifica e ristora e questo secondo me è uno dei punti cardine dai quali probabilmente poi voi avrete l'arduo compito di partire e allargarlo perché appunto questo è il 2015, siamo al 2022, il protocollo di Chioto addirittura risale al 1997, ve lo ricorderete, tutti all'epoca gli stati europei lo sottoscrissero e la tutela dell'ambiente è importante, è importante però a oggi vediamo anche pochi giorni fa la tragedia che è avvenuta nelle Marche è comunque responsabile da nostra anche in questa enciclica Papa Francesco ricordava San Francesco d'Assisi appunto il contatto che aveva con la natura, il rispetto che aveva col circostante che noi sembra abbiamo in parte dimenticato per cui stiamo cercando di accelerare i tempi propri della natura del creato sfruttando troppo, cioè esasperando tutto ciò che c'è intorno e quindi secondo me il punto dal quale voi appunto dovrete partire credo sia questo cioè la relazione, come si può sviluppare, come è necessario tutelare l'ambiente e quindi la persona, gli spazi che noi viviamo per un futuro che torni di nuovo a essere rispetto delle persone e quindi la casa comune poi è questa roba qua insomma in quell'aria che respiriamo, l'acqua che beviamo, le risorse che si stanno esaurendo che stiamo colpevolmente esaurendo tutto ciò che è spreco perché poi sprechiamo tantissimo e questo ci porta sempre a allontanarci di più e a aumentare il numero delle classi povere delle persone più povere, dei paesi più poveri che si impoveriscono ulteriormente lo vediamo ora con la crisi in Ucraina anche quali sono le conseguenze sul grano per i prezzi ma non solo, anche per reperimento delle materie prime proprio per alimentarsi quindi insomma come diceva San Francesco il compito è ingrato però qualcuno dovrà pur farlo